I militari della stazione Carabinieri Forestale di San Cipriano Picentino hanno proceduto con il supporto di veterinari dell'ASL alla liberazione di natura di un esemplare di tasso come Meles Meles. Il giorno 11 aprile l'animale era stato recuperato nel comune di Giffoni Seicasali da veterinari dell'ASL unitamente ai militari della stazione Carabinieri Forestale di Cava dei Tirreni e della locale stazione. La bestiola era stata rinvenuta e è stato di shock e claudicante, verosimilmente a seguito di un investimento da parte di un veicolo. L'esemplare di tasso era stato quindi portato presso il centro di recupero fauna selvatica, il frullone di Napoli, per tentarne la riabilitazione. L'animale non aveva riportato fratture e lesioni e veniva quindi sottoposto solo ad una cura farmacologica fino ad una piena guarigione. Previa individuazione di un sito idoneo al rilascio all'interno del parco regionale dei Monti Picentini, l'esemplare è stato quindi restituito al suo habitat naturale.